Una maggioranza di governo unitamente all'opposizione di centrodestra che approva dolosamente un progetto di legge già sapendo che sarà impugnato perché ha delle lacune e non vuole approvare degli emendamenti del Movimento 5 Stelle solo perché così il governo nazionale del Movimento 5 Stelle sarà costretto ad impugnare una norma che è scritta male è un atteggiamento di puro sciacallaggio. Il Movimento 5 Stelle da tempo sta portando avanti una battaglia a salvaguardia degli interessi dei medici di continuità assistenziale noi abbiamo fatto diverse proposte per cercare di sanare questa situazione Regione Abruzzo che prima ha creato il danno poi sembrava aver cercato di risolvere questo problema presentando una proposta di legge l'abbiamo letta e la proposta di legge è piena di lacune, è stata fatta proprio a nostro avviso per essere impugnata e osservata ulteriormente perché non motiva come richiesto appunto dalla Corte dei Conti il perché di questa indennità aggiuntiva e quindi noi come sempre propositivi abbiamo presentato due emendamenti per rispondere alle richieste della Corte dei Conti e quindi motivare questa indennità aggiuntiva. Abbiamo presentato questi emendamenti tesi a migliorare e diciamo a blindare la norma purtroppo la maggioranza del PD unitamente a Forza Italia li hanno bocciati quindi c'è una volontà, un dolo evidentemente ad esporre questa legge a ogni tipo di impugnativa e di osservazione ulteriori.